Siamo nell'area di Longarini, parte ispica, e possiamo vedere mentre di qua c'è proprio la divisione della provincia con il ponte, che poi in auto si ricongiunge con il ponte di Passo Corrado. Qui in genere c'è l'acqua, ma in questa occasione non c'è n'acqua. Qui è la parte ispica, c'è lì un ponte di connessione tra le due paludi, fino a poi arrivare alla forgia, che praticamente rimane lì, si vede anche il promontore di Portulisse. Qui siamo sulla provinciale di connessione, qui siamo nella parte ispica appunto, e lì possiamo intravedere. Ora si passa a quest'altra parte, nella paludia, sempre di Longarini, questo è veramente esteso. Ora c'è da percorrere il ponte, c'è da fare molto attenzione, perché non ci sono praticamente, mentre lì abbiamo provincia di Ragusa a favore a bufali di Marzo, questo è praticamente la divisione, fatta durante i lavori di bonifiche, e poi lì abbiamo altra targa, provincia di Siracusa, questa è proprio la divisione tra le due province, strada provinciale 44 e Pachino a Marzo. Mentre qui vediamo praticamente i residui d'acqua, con questo, con questo che arriva fino a Cozzolomo, si vede da una parte e dall'altra, giù in fondo del Cozzolomo, questa è la parte, diciamo, del pantano afferente a Longarini, dalla parte della proprietà, diciamo, di appartenenza alla provincia regionale di Siracusa, ex provincia regionale di Siracusa, qui c'è Nadia che mi aspetti, Lorenzo, via possiamo andare, a fare tutto qualche foto.